Siamo in tema smart working ma non basta incidenti stradali nel tragitto casa lavoro ancora con il segno più davanti Confindustria e Inael insieme con un progetto di supporto per le imprese Antonio Bucci Lo smart working non basta anche negli anni dell'emergenza sanitaria gli incidenti stradali nel tragitto casa lavoro hanno registrato il segno più davanti Infortuni che vedono un incremento del 22,31% rispetto al 2020 se è per questo già nel 2019 le cifre erano in rialzo rispetto ai 12 mesi precedenti e l'aumento delle denunce si è mantenuto costante sin dal 2015 Parte da questo quadro l'iniziativa di Confindustria Baribatte e Inael Puglia si chiama safe driving e vuol dire supporto ad aziende e lavoratori le possibilità sono molteplici, attività gratuita di informazione e consulenza, campagne di informazione sui social network e workshop tecnico specialistici su temi come rischi, infortuni, prevenzione Cuore del progetto non a caso saranno le attività specifiche di affiancamento e consulenza rivolte ad un gruppo di imprese selezionate proprio allo scopo di promuovere modelli virtuosi di gestione Lavoriamo al 50% Confindustria, confonde al 50% Confindustria e Inael per fare tutta un'attività di prevenzione che possa portare alcune aziende anche a certificarsi con la certificazione 39.001 che è la certificazione che previene i rischi sul trasporto, sia sul trasporto dei dipendenti da e per il posto di lavoro e sia sul trasporto, pensiamo, alla DR, a tutti i trasporti chimici Le imprese di trasporto, sia persone che merci, sono assolutamente pronte anzi, non vedevano l'ora, per la verità Quello della sicurezza è un abito culturale che noi dobbiamo indossare, ritengo in via definitiva a tutela delle persone, a tutela del territorio, dell'ambiente anche perché sicurezza è anche questo, sicurezza del traffico delle merci significa anche tutelare territorio e ambiente